A pareggiata Neki Balloni il Real Forte Querceta 1-1 con il Borgosesi, a vantaggio dei Nerazzurri con Guidi con un gran colpo di testa e pareggio per gli ospiti di Ferrandino. Nel finale poi i ragazzi di Amoroso hanno sfiorato addirittura la vittoria con un gol annullato a Di Paola. Il pari permette di mantenere l'imbattibilità di entrambe le squadre che si confermano tra le più interessanti per proposti di gioco del girone. Dopo la partita è stata inaugurata una targa commemorativa in ricordo di Mario Carducci e Lida Moriconi, custodi del campo sportivo per 30 anni. Prima sconfitta stagionale da parte del Seravezza Pozzi per 2-0 sul campo del Chieri nell'anticipo di sabato pomeriggio. La squadra di Mister Vangioni ha ceduto nel finale della gara quando ha subito le due reti di Deriggi e la mezz'ora al 38esimo di Cecchi. Un 1-2 con i quali i padroni di casa si sono aggiudicati una partita che nel complesso è stata equilibrata. Da recriminare il Seravezza ha il palo colpito da Giordani in chiusura del primo tempo. È terminato 1-1 anche il derby tra Ghiviborgo e Lucchese con i rossoneri che in 10 per l'espulsione di Dannelli acciuffano il pareggio al 93esimo con Falorni pareggiando il rigore trasformato da Lucatti. Da segnalare anche il penalty sbagliato da Cruciani per la Lucchese tiro parato da Signorini.